Oh ragazzi, ho sempre detto che l'Italia è un paese fondato sul matriarcato, altro che patriarcato. Guardate cosa dice Arianna Meloni, difende il marito Lorigida per la storia del treno, orgogliosa di lui per averlo fermato il treno perché non l'ho rimproverato. Cioè questo deve essere rimproverato dalla moglie, un ministro. Me lo vedo già che a casa sua deve mettere le pattine, sennò prende gli schiaffoni dalla moglie. E poi ci parlano di patriarcato. Veramente siamo al limite del ridicolo, anche se non nego che magari quella furbacchiona l'ha detta apposta perché siccome c'è la diatribla del patriarcato destra e sinistra, tutto mi fa pensare che l'abbia detta apposta. Però è un mondo ridicolo questo italiano.